Buonasera a tutti! Mamma mia! Ma che bellissimo! Montecano! Chi sarà questo simpatico signore? Sì, buonasera signorina! Wow! Sì, buonasera a tutti! Wow! Buonasera, sì! Buonasera! Buonasera! Momento, buonasera a tutti! Buonasera! Buonasera! Che bello! Buonasera bambino, che bello! Ah, guai! E che... Wow! Per ora mi sembra che si trovi molto bene qui sulla pista di Monte Carlo! Cosa voglio mostrarci però ancora non l'ho capito! È... Spicca! Antas! No, no, no. No, no, no. Attenzione, pubblico. Aspetta, attenzione. Ah, non era tutto qui. Ah, mai visto niente del genere. Ma tutti e tutti. Lui si chiama Elastic, viene dal Belgio ma è molto famoso in Europa. Ma ora credo che per le sue incredibili performance abbia bisogno dell'aiuto di qualcuno del pubblico. Oh, che bellino. Calm, calm, calm. Relax. Decontrati. 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 Ok. 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 Spettacolo! Povero spettacolo! Elastic! Spettacolo!